Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video In questo video vediamo assieme le novità presentate ieri nell'evento Apple 22 ottobre 2013 a San Francisco da Tim Cook Allora, le novità principali innanzitutto sono il nuovo iPad, l'iPad di quinta generazione denominato iPad Air Poi il nuovo sistema operativo OS X Maverix e anche i nuovi MacBook Pro e il nuovo iPad mini con display retina Allora, innanzitutto partiamo, l'evento si apre con il successo straordinario che hanno avuto i nuovi iPhone e iOS 7 Addirittura Tim Cook ha detto che è stato il lancio migliore di sempre e che nonostante questo i nuovi smartphone non sono ancora disponibili in tutto il mondo E quindi si prospettano altre vendite Poi iOS 7 viene già utilizzato da 20 milioni di utenti in tutto il mondo e ha consentito di guadagnare ben 3 miliardi di dollari agli sviluppatori Poi è stato presentato OS X Maverix che può essere scaricato gratuitamente dall'Apple Store Dal Mac Apple Store, scusate E migliora sicuramente le prestazioni, ci sono nuove funzionalità Poi abbiamo i nuovi MacBook Pro con retina display da 13 pollici e da 15 pollici Il design è più sottile, più leggero, molto più versatile Quello da 15 pollici monterà un Intel Core i5 da 2,4 GHz, 4 GB di RAM e 128 GB di hard disk Quello invece da 15 pollici avrà un Intel Core i7, Intel Quad Core i7 Da 2,4 GHz, 8 GB di RAM e 256 GB di hard disk Migliorano le prestazioni delle batterie I prezzi sono comunque molto molto alti Infatti quello della 13 pollici ha 1329 euro Mentre quello da 15 pollici addirittura a 2029 euro Prezzi veramente esorbitanti Poi abbiamo la novità più importante sicuramente dell'evento di ieri L'iPad Air L'iPad di quinta generazione avrà il tablet un display reddina da 9,7 pollici Con uno spessore molto più sottile rispetto all'iPad di quarta generazione Da 9,4 mm a 7,5 mm Come vedete nelle immagini è molto sottile Molto 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 bello a mio parere a livello estetico E la velocità della CPU e la capacità di far girare meglio il sistema È migliorata di ben 72 volte rispetto all'iPad originale L'iPad originale io credo che faccia riferimento all'iPad di prima generazione Poi abbiamo due nuove tecnologie La tecnologia MIMO Cioè un Wi-Fi due volte più veloce rispetto alla generazione precedente E la tecnologia MPE Una fotocamera posseduta 5 megapixel 10 ore di autonomia E anche la modalità, diciamo, la connettività 4G Abbiamo le nuove smart cover e smart case Che possono essere, diciamo, le smart cover classiche per proteggere l'iPad Anche di dietro Invece le smart case sia davanti che di dietro E sarà disponibile all'acquisto dal primo novembre A partita 479 euro per il modello Wi-Fi Poi avremo anche il modello, diciamo, 16GB, 32GB, 64GB e 128GB L'iPad mini con retina display, invece Avrà le stesse dimensioni dell'iPad mini precedente Ma questo iPad mini di seconda generazione Avrà, appunto, il display retina Da 7,9 pollici con una risoluzione di 2048x1536 pixel Allo stesso processore dell'iPhone 5S e dell'iPad Air Infatti, mi sono dimenticato di dire Ma l'iPad Air avrà, appunto, 64 bit di processore Con un chip A7 Stesso dell'iPhone 5S e lo stesso avrà l'iPad mini Quindi, a livello di processore, saranno tutti identici La grafica sarà 8 volte più veloce rispetto al precedente Autonomia fino a 10 ore Tecnologia LTE Fotocamera HighSight da 5 megapixel E possiamo registrare video in Full HD a 1080p E la videocamera per il FaceTime Sarà, a partire da novembre, disponibile A 389 euro per la versione base Quella Wi-Fi più 16GB E ci sarà anche qui la versione Wi-Fi più 3G o 4G Da 16,32 e 64,328 GB Sono rinnovati i programmi di Apple per Macintosh iLife, iWork, iFoto, iMovie e GarageBand E diventano completamente gratuite Al differenza di prima che erano a pagamento Per ultima, come ultima novità Abbiamo iOS 7.0.3 Che è il nuovo aggiornamento, la nuova release di iOS 7 Che porta a qualche leggero miglioramento Alla versione precedente La 7.0.2 Soprattutto dal punto di vista della ricerca Come nello spotlight Che possiamo ricercare Tramite lo spotlight del sistema Possiamo fare una ricerca anche su internet Da ciò che ho capito E ci sono nuove funzioni Per quanto riguarda la Diciamo La messa in sicurezza E le nostre password Con iCloud Keychain E niente ragazzi Quindi queste sono tutte le novità più importanti Dell'evento di ieri di Apple Sicuramente l'iPad di quinta generazione È la novità più importante Ma anche l'iPad mini con display retina È sicuramente Un ottimo passo in avanti Da parte di Apple Unica nota negativa secondo me E ciò in cui non sono d'accordo Come da sempre Sono i prezzi veramente Veramente molto esagerati Della MacBook Pro Quello da 15 pollici da 2000€ Lo stesso 13 pollici a 1300 Sono veramente Tanti 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 soldi E conviene sicuramente Comprarsi un altro Un computer normale Stesso con Windows montato Perché possiamo farci Un computer Fino a 10 15 volte più veloce Di questi Di questi MacBook Con 1000€ E niente Quindi questa è una piccola Nota che aggiungo io Niente ragazzi Questo video di oggi Finisce qui Ci sentiamo Al prossimo video Scrivete nei commenti Cosa ne hai pensato di questo evento Compre dell'iPad Di quinta generazione Compre dell'iPad mini Con display retina Come vi sembrano Vi piacciono Non vi piacciono Vi esportavate di meglio Quali sono le funzioni Che vi piacciono di più E niente ragazzi Questo è tutto Alla prossima Ciao ciao